Preparo la borsa per andare a domicilio del paziente. La borsa deve essere robusta, di nylon e sanificabile. All'interno andiamo a mettere i DPI che utilizzerò dal paziente, quindi i copriscarpe, la cuffia, doppio paio di guanti usegetta, mascherina FFP2, mascherina per il paziente e per il caregiver nel caso non ce l'avessero già, visiera o occhiali, camice monouso, sacchetto in cui andremo a riporre i DPI da buttare, gel igienizzante per mani, alcol, carte per asciugarsi le mani e asciugare i DPI dopo averli sanificati, telino monouso. Vado invece a comporre quella che è la borsa per andare a letto del paziente, in cui metto gli strumenti utili a letto, quindi il saturimetro, il termometro, fonendo, sfigmo, biro, ricette bianche e rosse già col timbro e telefono in bustina. la borsa è pronta.